Saluto a tutti e bentornati a Fisicamente Aula Studio. Oggi per mettere insieme un sacco di vostre domande inizio una nuova rubrica che sarà focalizzata a parlarvi delle missioni spaziali. Avremo diversi punti all'interno di questa rubrica, però sono due le aree principali. Una parleremo di come si muovono i satelliti, i razzi, qualsiasi cosa ne vogliamo mandare nello spazio e in uno secondo momento poi andremo a vedere anche come li facciamo muovere. Quindi uno diciamo un po' più passivo e l'altro è un po' più attivo. All'interno di come si muovono i satelliti, i razzi e via dicendo avremo le orbite, parleremo poi degli elementi orbitali, quindi eccentricità, inclinazione, tutte queste cose qua. Parleremo dell'energia cinetica e potenziale che hanno questi satelliti, questi razzi. Parleremo ovviamente delle leggi di Keplero che si applicano per i pianeti, ma non solo, vedremo qualche esempio di orbite, che ne so, la Stazione Spaziale Internazionale, piuttosto che altri affari, ne vedremo tanti, non vi preoccupate. Vedremo poi i punti di Lagrange, che sono quelli dove possiamo parcheggiare senza pagare troppo, diciamo così, le nostre sonde. Parleremo delle velocità cosmiche e anche della fionda gravitazionale. Diciamo che questi sono i primi argomenti che mi sono venuti in mente. Dopo, sicuramente grazie alle vostre domande, andremo a aumentare la polpa e la sostanza. Come faccio a muovere le mie sonde? Allora andremo a parlare ovviamente dell'equazione dei razzi. Quindi vedremo qual è davvero la matematica, che alla fine non è così complicata, che mi permette di capire come faccio a mandare in orbita tutti gli affari che voglio. Parleremo dell'impulso specifico, che mi permette di capire qual è il carburante giusto per lanciare il mio razzo. Parleremo dei budget di velocità e dei sistemi di propulsione. Poi vedremo questi famigerati razzi multistadio, come sono per esempio i Saturno 5, quelli che hanno mandato gli uomini sulla Luna. Poi parleremo del controllo d'assetto, dei generatori di torsione, che sono quelli che mi permettono di mantenere puntato il mio satellite, il mio telescopio, il mio strumento, qualsiasi cosa, e molto altro, come per esempio le orbite di trasferimento e molte altre cose. Questo diciamo è il menu iniziale. Poi giorno per giorno vi farò un video per ognuno di questi punti e costruiremo anche insieme gli episodi successivi. Come sempre vi ricordo che se avete qualche richiesta, qualche domanda, qualche curiosità, non esitate a lasciarmi sempre un commento e poi cercherò di rispondere alle vostre domande e grazie anche alle vostre domande andremo a davvero divertirci insieme in questa nuova rubrica. Nulla. Tra pochissimo arriverà il primo video sulle orbite, le orbite cosiddette newtoniane, perché si muovono solo sotto l'influsso della gravità. Nulla. A presto.